La nostra indole mentale dovrebbe portarci a stupirci del mistero dell'esistenza e dell'intero cosmo. Ci aiuta in un certo senso a ridimensionare l'autostima eccessiva. Se tutto è così meraviglioso e terribilmente complesso, che sarà mai il creatore? La volta stellata ci richiama spazi immensi e corpi celesti enormi di ogni tipo. Chissà quale dinamismo incredibile si cela dietro tutti i fenomeni siderali intergalattici, ne conosciamo una parte piccolissima. Quando ci rendiamo davvero conto del nostro granellino vagante nello spazio, che chiamiamo pianeta Terra, una sensazione di vertigine interiore afferra il nostro animo stordito. In miliardi di esseri umani navighiamo insieme negli abissi spaziali e spesso non sappiamo essere consapevoli della infinita potenzialità del nostro unico creatore e Signore. Egli ha riempito questo pianeta di innumerevoli essenze materiali, biologiche ed umane. Chi può calcolare lo sterminato numero di atomi ed elementi subatomici che compongono la materia? E chi potrebbe davvero essere consapevole della dinamicità di tutte le vibrazioni e di ogni coscienza umana che sta letteralmente trasformando la superficie del pianeta? Eppure complessità e fragilità convivono in uno strano equilibrio che conosciamo pochissimo. Pensiamoci bene, tutto proviene dal medesimo creatore che spesso non viene nemmeno preso in considerazione.